Ciao a tutti, io mi chiamo Matilda e oggi vi insegno a cucinare la torta in tazzo. Eccola qui. Per prima cosa ci laviamo le mani, poi ci mettiamo il grandiule e ci leghiamo i capelli. Per prima cosa ci laviamo 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 i capelli. Deliziosa! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!